buon lunedì come era prevedibile a kim williams ha vinto il big man weekend quindi penso ce l'aspettassimo un po' tutti dato il blasone del bodybuilder che saleva sul palco secondo orso md marcello de angelis o angelis terzo emir homeragic che il primo da sinistra e quarto mark hector che il primo da destra devo dire che mi ha impressionato molto mark hector non sono un super fan di mark però mi è piaciuto molto c'è questo quarto posto per quanto mi riguarda gli sta un po' stretto forse stato per me l'avrei messo tranquillamente secondo perché orso md mi piaceva in passato più che altro guardate che spanciamento quando si trai sempre tra l'altro perché ero un po' ingannato dalle foto su instagram però sul palco è tutta un'altra cosa la vita non è larga come quando posa su instagram la schiena è una caffonata ignobile come vedete questo back the whole bicep e vi domeragic sicuramente mi è sembrato superiore a orso md però mark hector è più bello da vedere il più completo tra questi tre è più bello molto semplicemente poi i gusti sono gusti chiaramente però forse stato per me avrei messo hector secondo probabilmente terzo emir quarto orso md o comunque orso md terzo e emir quarto almeno questo è il mio pre personale poi dite anche la vostra chiaramente però penso che la pensiate più o meno come me credo mi è sembrato più bello mark hector di questi due comunque andrea pressi è arrivato quinto chiaramente lo vedete lì sulla destra questi video fanno un po' schifo però è l'unico video che ho trovato su youtube quindi ci accontentiamo anche pressi ha chiuso la stagione perché questa è l'ultima gara non dico stagione però dell'anno perché saprete che poi dopo queste tre quattro gare dopo l'olimpia c'è una pausa sino all'arno classico e poi si riprende con le gare in primavera in autunno sino ad arrivare all'olimpia quindi non l'ho ancora detto veri compliments a kim williams che si è qualificato per l'olimpia dall'anno prossimo senza grosse sorprese modi builder che credo in quest'ultimo annetto sia un po' migliorato per quanto riguardi la definizione però ha delle pecche strutturali soprattutto a livello di attaccatura dei dorsali troppo alta e la schiena è un po' così così per quanto mi riguarda le pose laterali sono molto forti davvero tra le più forti secondo me al mondo sai chest sai tricep molto molto denso a livello di muscoli in generale mi è sembrato un po' migliorato però non credo sia un bodybuilder che possa fare di più che vincere queste gare con una line up scarsa tra virgolette con scarsa intendo di gente che non fa l'olimpia o comunque che non fa abitualmente non penso possa vincere gare più importanti né piazzarsi oltre una top 10 all'olimpia che chiaramente schifo non fa c'è un risultato ottimo per il bodybuilder arrivare in top 10 però credo che questo sia il suo range diciamo d'azione di piazzamenti all'olimpia però è comunque una vittoria è comunque una qualifica e qui vedete un po' di foto una carrellata di foto non ho trovato routine di presti quindi magari vuole vedremo i prossimi giorni magari pubblicare a lui su instagram perché in genere fa così dopo un ottavo posto a praga un quinto posto qui penso che non sia particolarmente soddisfatto però credo anche che queste gare che ha fatto le abbia fatte non tanto guardate che spacciamento di orsen di tremendo scusate la parentesi che abbia fatto queste gare più che altro per visibilità e anche credo perché lo tsunami il suo sponsor sponsorizzava queste queste gare quindi credo ci fosse un incentivo anche per presti per gareggiare non so come funzioni se lo sponsor dica presti guarda fai queste gare perché ti paghiamo tutto noi siamo lo sponsor vai o se sia solo la sua decisione non lo so però sicuramente ci guadagna anche in visibilità di sicuro piazzamenti diversi da quelli a cui è abituato quindi immagino che adesso si farà una bella pausa e poi ritenterà la qualifica per l'olimpia per l'anno prossimo perché quest'anno ha gareggiato davvero molto comunque qui vedete akim con la sua famigliuola credo che sia la sua famiglia immagino 15.000 dollari e come sempre ripetiamo very compliments ad akim fatemi sapere che ne pensate anche di orsen di questo secondo posto che secondo me è un po' troppo generoso sono stati un po' troppo buoni i giudici nei suoi confronti buona grazie a tutti